L'artista esistenzialista, i miei migliori auguri a tutte le mamme domani. La festa della mamma è un giorno particolare, uno di più particolari, perché c'è questo rapporto interplacentare tra la madre e il bambino, perché una madre prima di partorire soffre le fatidiche sette camicie, se non addirittura peggio, perché c'è sempre un attaccamento fra i genitori e i figli, perché probabilmente è inutile che ci prendiamo in giro, la madre ha uno spessore maggiore del padre, perché, ripeto, c'è questo rapporto che è un rapporto di sangue, un rapporto di sentimenti, un rapporto di sensazioni, stati d'animo espansi all'inverosimile, quindi perciò dico, certamente domani sarà una giornata particolare per tanti, perché, ripeto, certamente la madre è un, credo che sia un elemento, non dico di vitale importanza, ma di tremendo spessore per ognuno di noi. Chiunque magari vive un rapporto che sia pacifico, conflittuale con il genitore, chiunque credo che non possa non ricordare assolutamente il giorno della festa della mamma con un fiore, con un gesto, con un cioccolatino, con un augurio, con un abbraccio, con qualunque cosa desiderate, ma penso che sia priorità importante, fondamentale ricordare il giorno della festa della mamma e mi migliora pure a tutti, le mamme.